Amici del canale, specialmente di Senzona Vip, vi volevo far vedere come è salito oggi il fiume Sarno. Allora, qua un'altezza incredibile, che è stradipato, che si vede che è restato un fiume bagnato. Io sono oggi il fiume Sarno, che è salito proprio a livello di strada. Un qualche più avanti proveremo la via completamente chiusa, inaccessibile. Un po' più avanti, un po' più avanti. Un po' più avanti, un po' più avanti, un po' più avanti. 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 Bisogna purtroppo fermarsi. Siamo qui ragazzi, è meglio di finire qua e non possiamo andare oltre. Non si può accedere, perché? Vediamo finché posso arrivare. Non soffrono, non soffrono, non soffrono, non soffrono, non soffrono, perché il fiume è salito dalla strada. All'estremità, io rimaccio a piedi. E niente, non uscite i social, rimanete sul canale, presto a tutti i video. Io vi faccio tutto ciò. Siamo tutti e tutti e tutti quelli che seguono il canale.